Vado? Vai. Ragazzi mi rompete sempre i coglioni, abbiamo anche gli spettatori, fai vedere che riprendono con doppia telecamera. Allora, la traversa avete detto che non vale, allora adesso facciamo gol con il portiere, c'è un amico che si presta, vediamo dove la mettiamo la palla, vediamo. Lo tirone qui. Porca puttana, sempre la traversa!